Allora, eccoci tornati di nuovo insieme in diretta. Stiamo tentando di collegarci con il nostro prossimo ospite. Il bello della diretta, come diciamo spesso, lui è Enrico Rossi, plant sitter e agronomo in collegamento da Bologna. Abbiamo qualche piccola interferenza tecnica. Intanto, scusate, non trovo oltre al collegamento, manca anche il mio compagno di viaggio, che è Leonardo Fania, che è sparito dalla scena. Dov'è? Eccoci, scusate, ero andato a recuperare la nostra pianta, la protagonista di giornata, potremmo dirla così. Allora, io la metto in posizione d'onore, potremmo definirla così. Grazie, grazie. L'avevamo dimenticata dietro le quinte, così il nostro amico Enrico Rossi ci potrà dare qualche indicazione. A lui chiederemo, naturalmente, dei consigli su come curare le piante in inverno, ma soprattutto capire se questa pianta ha possibilità di continuare nella crescita oppure, ecco, è destinata, ahimè, alla... come dire, al... come si dice le piante? A morire. A morire, ecco. Tutto brutto dirlo, ma purtroppo è così. Allora, chiediamo alla regia se abbiamo in collegamento il nostro ospite, ci siamo, siamo con Enrico Rossi, tu eccoci qua. Enrico, ci senti? Pronto, Enrico, buongiorno. No, non sento ancora l'audio. Noi ti sentiamo, ma tu non ci senti, quindi se l'ospite non ci sente, purtroppo non sappiamo come fare le domande al nostro Enrico, perché ne avevamo diverse, anzi so che sono arrivate anche delle foto dei nostri telespettatori appunto per chiedere delle indicazioni, dei consigli al nostro pollice verde. Magari proviamo a chiamarlo su WhatsApp, regia? Stiamo provando. Ok, stiamo provando. Intanto, Leonardo, come vogliamo procedere secondo te? Allora, procediamo, non so, magari se riusciamo a vedere le fotografie dei telespettatori, in qualche maniera, le foto che sono giunte in redazione, ne abbiamo diverse. Ok, riproviamo. Enrico, ci senti? Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Eccoci, eccoci. Eccoci, buongiorno. Buongiorno Enrico, ce l'abbiamo fatta. Allora, come vedi nel nostro studio c'è l'orchidea, l'abbiamo soprannominata, l'orchidea di Just Today, poi ci darai delle indicazioni, ti abbiamo mandato in anteprima le foto per capire se questa orchidea è ancora in vita, però prima di dedicarci a lei, dacci qualche consiglio. Quali piante avere in caso sul balcone a gennaio? Insomma, quelle che si adattano un po' più a queste temperature fredde. Beh, allora, da esterno non ci sono tantissime piante disponibili ovviamente durante l'inverno, però ne troviamo alcune, tra cui il classico ciclamino, che ce ne sono di tante varietà diverse e molto molto carine. Poi c'è l'elebolo, che è la rosa di Natale, la rosa d'inverno, l'agrifoglio, che non è proprio una pianta, diciamo, da fiore, però è un po' più arbustiva. Gelsomino d'inverno, il gelsomino d'inverno è una specie di gelsomino cinese che può fiorire anche durante l'inverno, ovviamente dipende un po' dall'estima, il calicanto oppure le violette del pensiero, ce ne sono veramente, ce ne sono un pochino, ce ne sono veramente tante. Ce ne sono un po' di nicchia. Ecco, io invece volevo chiedere ad Enrico, allora, fino a pochi giorni fa nelle nostre case troneggiavano le cosiddette stelle di Natale. Esatto, sempre, classico. Ora, che fine le facciamo fare? Beh, diciamo che la probabilità di ucciderle è molto alta, però considerate che è una pianta originale del Messico e che può raggiungere anche 4-5 metri di altezza, ed è un arbusto, quindi, diciamo, di potenziale di crescita ce ne ha molto. Qui in casa, ovviamente, dobbiamo stare attenti e fare quelle piccole cose per mantenerla in vita e sana, che in realtà non sono così difficili. Per prima cosa è una pianta che, siccome viene dal Messico, vuole tantissima luce, quindi dobbiamo cercare di metterla in un posto molto luminoso e se abbiamo anche un posto, un giardino, un terrazzo all'esterno e possiamo metterla fuori durante il periodo estivo, molto meglio perché ha bisogno di tanta luce e se sta fuori tutta l'estate, la primavera, crescerà moltissimo. Durante l'inverno, soprattutto, bisogna dare pochissima acqua, perché è della stessa famiglia di molte piante succulente, ma non è propriamente una pianta succulenta, però si avvicina, quindi odia assolutamente i ristagni idrici e quindi va data poca acqua, anche perché resiste molto bene alla siccità. Allora, caro Enrico, il caso del mese, perché comunque continueremo a collegarci con te anche prossimamente, allora il caso del mese è questa orchidea, è la mia ma l'abbiamo ribattezzata di Giastudè del nostro programma. Come sta? Ha possibilità di crescere, di rifiorire soprattutto o è destinata a morire? Ovviamente Enrico ha fatto una diagnosi preventiva. Esatto, sì, sì, gli ho mandato le foto. Sì, allora, vedendole così, la parte fogliare sta benissimo. Ha semplicemente smesso di fiorire perché ha finito con il suo tempo di fioritura. Adesso se la tieni in un posto molto luminoso c'è caso che possa rifiorire, perché adesso è la stagione delle falenopsis che fioriscono. Se vedi che non ti fiorisce puoi anche tagliare i due steli fiorali che vedi, le puoi tagliare più bassi al primo o al secondo nodo. Quali sono questi, gli steli? I steli fiorali sono quelli, esatto, dove c'erano i fiori. Ok, ok. Sullo stelo, se vedi, ci sono delle tacche. Sì, sì, eccole qua. Quelli vengono chiamati nodi. Ok. È consigliabile tagliare, una volta finita la fioritura, tagliare al primo o al secondo nodo. Ok, ho capito. Subito dopo il primo o il secondo nodo. Perfetto. Comunque sta bene. Che bello. Allora, bisogna, diciamo, come io le coltivo le orchidee, è che faccio il bagnetto quando vedo che le radici diventano di colore argento, soprattutto quelle nelle parti del fondo del vaso. Sono queste, quindi. Argento significa di questo colore, quindi hanno bisogno di fare il bagnetto. Ah, eccolo qua. Adesso, la di qua non le vedo molto bene, però sembrano quasi verdine adesso, verdino chiaro. Sì, bravo, sì, 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 sì. Ok, ok, fra poco avrà bisogno di fare un nuovo bagnetto. Ok, per bagno che cosa intendi? La metto in una ciotola, la faccio stare qualche secondo? La metto in una ciotola con il livello dell'acqua che può arrivare fino al vaso. Ok. Esatto, all'altezza del vaso. Io lo tengo generalmente 15 minuti. Ah, pensavo di meno. Pensavo, ah, ecco, 15 minuti, poi la tolgo dalla ciotola e la rimetto nel vaso. Sì, mi raccomando, prima di rimetterla nel vaso, tiella un po' fuori per far sgrondare un po' l'acqua nel sesso, così non si accumula dentro il portavaso e ogni tanto tra un bagnetto e l'altro, quindi non so, ogni tre bagnetti, gli puoi rimettere un po' di fertilizzante dentro l'acqua. Fertilizzante nell'acqua, perfetto Enrico, sei stato preso appunti, no, 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 non avevo speranze su questa pianta perché l'altra sta rifiorendo, questa avevo paura che non ci fossero possibilità di ricrescita, quindi grazie. Enrico, alcuni nostri telespettatori ci hanno anche inviato delle foto che magari ti inviamo in privato o, come dire, andrai ad osservare questi casi clinici e poi magari ne riparliamo il mese prossimo. Va bene. Intanto vogliamo anche invitarvi a seguire Enrico Rossi, PlantSitter Bologna, sui propri social. Vogliamo ricordare quali, Enrico? Sì, allora, io mi chiamo su Instagram, mi chiamo Greenert Geek, Geek con la G che sta per appassionato. Sì, lo vediamo sulla maglietta, sulla felpa. Sì, sì. Benissimo. E allora ci sentiamo il prossimo mese, ti ringraziamo di cuore per questa disponibilità. Tu vuoi chiedere qualcos'altro, Leonardo, il mese prossimo? Magari il mese prossimo, sì, sì, sì. Vediamo, insomma, il mio bonsai che, tra l'altro, ricordo, nella prima intervista che facciamo ad Enrico quest'estate, chiesi del mio bonsai che purtroppo è morto? Sì, ormai è passato a miglior vita. Penso, presumo. Vediamo, ora ci organizziamo un attimo e vediamo un po' come fare. Avremo sicuramente un altro caso da sottoporre al nostro Enrico Rossi, agronomo e PlantSitter. Grazie ancora per essere stato con noi, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie, ciao. Buona giornata. Grazie. Bene, allora, invitiamo allora i nostri amici telespettatori a inviarci le loro fotografie su 331-737-8033. Il mese prossimo avremo la diagnosi e anche la prognosi, probabilmente. Quindi, grazie al nostro Enrico Rossi. Noi adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità perché credo che l'ospite successivo sia già pronto. Andiamo in pubblicità. Noi adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità.